Benissimo, abbiamo capito la quantità giusta del prodotto per non aggiungere e non limare e avere la struttura già pronta. Ora andiamo a capire come mettere la forma correttamente. La forma non la mettiamo in qualche maniera, ma a seconda delle regole che abbiamo visto nella parte teorica. Vi ricordate che il punto A e il punto B devono essere sullo stesso livello. E andiamo a posizionare la formina ricordando che il parallelo inferiore deve essere parallelo all'asse centrale del dito. Un'altra regola importante, anzi un altro segreto importante per avere una struttura già pronta.